Per i controlli sul territorio nel periodo del settembre lucchese, i carabinieri potranno contare su due nuove moto a quattro ruote, i Cudder. I due mezzi, arrivati incomodato d'uso dalla casa produttrice, sono stati presentati al Caffè delle Mura alla presenza dei vertici lucchesi dell'arma e del prefetto Maria Laura Simonetti. I Cudder sono mezzi particolarmente agili. Grazie ad un sistema idraulico possono inclinarsi in curva come una moto a due ruote, riuscendo comunque a rimanere aderenti all'asfalto su tutte e quattro le gomme, l'ideale per percorrere velocemente ma in sicurezza strade tortuose o dissestate. I mezzi saranno utilizzati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Lucca nei quotidiani servizi di pattuglia e per lustrazione. Sono dei mezzi di recente assegnazione, sono monocilindrici, hanno una cilindrata di 400 centimetri cubici e una potenza di 35 cavalli. consentono di essere guidati con la stessa facilità di un comune scooter. Ovviamente avendo quattro ruote offrono un grosso supporto in termini di stabilità. Su quale territorio verranno impiegati? Al momento noi li impiegheremo soprattutto nel capoluogo, sia nel centro storico sia nelle altre località di maggiore richiamo turistico e non. Sono sicuramente dei mezzi che consentono di rendere ancora più efficace dal nostro punto di vista l'attività di controllo del territorio e di pronto intervento proprio per le caratteristiche che ho prima illustrato.